Buongiorno, oggi è una giornata speciale per la sanità ligure. Credo che nel suo percorso di riforma e di revisione dei processi organizzativi oggi sia l'attenzione non solo del nostro sistema sanitario regionale ma anche dei sistemi sanitari vicini. Abbiamo l'occasione di confrontarci con tanti attori della sanità, quelli che sono a contatto anche con il paziente, con il cittadino, che è il vero riferimento. Oggi abbiamo un momento di monitoraggio delle azioni che la riforma ha portato e poi siccome queste non sono un fatto concluso, ma in un percorso lineare di miglioramento continuo dovremo disegnare anche il futuro, vedere la coerenza delle azioni sino ad oggi, correggere eventualmente quello che va corretto, ma soprattutto disegnare il futuro della sanità. I modelli che si basano su una rete efficace, su una collaborazione efficace dei professionisti credo siano i modelli vincenti e che possono essere esportati in tutto il Paese. Ce n'è un grande bisogno.